ciao indovinate cosa ho trovato ho trovato un charizard di ferro alluminio ed eccolo qui ho trovato a lui dove ci sono loro tre più una pokeball all'interno ci dovrebbero stare queste tre carte promozionali l'album condesignato charizard tre adesivi celeste rossa e verde e sei bustine si sei bustine tre cartolografiche di neo scarada per dirge e qua qua vallo sei bustine e e più tanto altro per usare anche il gettone di charizard provo ad aprire con i pistolini che ogni tanto fa qualche danno e graffia mi sa che l'ha graffiato un po' a controluce non si vede niente tranne se ha subito qualche danno nel viaggio che farà qualche bombatura eccolo qui questo qui lo posso anche levare sei bustine carte grafiche una fanta moneta pokemon quattro fogli di adesivi coloratissimi un minara mini raccogitore e una carta codice per pokemon life e dietro nera così un sacco di tesori pokemon qui si vede di dietro il non so se si può dire il culo bello scarletta scarletta e violetta non lo so non credo che io lo dicevo scarletta e violetta invece mi dicesse uno in un commento è scarlato è violetto ma va corretto qui c'è una maniglia di gomma dura un po' vuoto dentro vedete che bella immagine anche qui perfetto che fa lo scalino il gancio anche qui è bello questa parte pokemon la parte frontale una facciata effetto cassaforte sarebbe bello aprirla così ma ma per così chissà se s charizard no c'è charizard ma effetto gettone mi sa qui c'è un effetto ammaccatura mi ritando anche loro escono difettati ne ho trovato almeno uno o due non di charizard ma con i difetti sul gettone o effetto leggermente sbiadito ma era capitato ecco qui tutto pieno di brillantini meo scarrata fase 2 si evolve da floragato bella tutta piena di stella poi c'è qua qua val bella 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 anche lei fase 2 che si evolve da quax è bella bella il tipo di effetto che ha bellissima e c'è il fuoco che non è charizard ma è scheletirge fase 2 che si evolve da crocola crocolocca bello che mi bastava solo una chitarra mi serve solo una chitarra per suonare rock bella carta tutta brillantinata tutta truccata strano che non c'è codice qui ogni tanto si dovrebbe trovare ma non c'è qui c'è quest'altro piccolo scaffaletto un pochino pesante tre bustine ecco il codice mi è scappato tre bustine più altre tre il codice è andato qui sotto chi lo prende per prima o cresce a farlo per prima su internet sposto un po di roba ecco qui ha due bei adesivi questo è gigantesco ha contro luce e quest'altro è tutto uno anzi solo questo piccolino e questo è gigantesco invece pokemon non si leva anzi si potrebbe levare tutto ecco qui l'altro bello tutto celeste sono tre adesivi uno due e tre anche quelli dopo sempre tre uno due e poi tutto il resto si può anche prendere e levare rimane tutto il vuoto ecco le macchiette vuote uno due tre qui c'è il mini album ok se lo apro e lo apro qui c'è quest'altra ok ecco la che è uscita è buona da metterci anche qualche cosa da sfruttare o da soffluire qui non c'è più niente tutto metallo ho messo un po' chiudo e lo metto la parte a posto qui c'è il mini album la metto al confronto vicino alla bustina poco più larga di una bustina mi sa una volta e mezza neanche solo per vederla come esteticamente poi la rimetto di nuovo dentro ecco la qui sembra loro tre terra fuoco e acqua no perché altro fuoco acqua ed erba e c'è la ricetta dove vanno ne va solo una è come una slide che non è a doppio tipo dopo slide che ce l'ho la divisione di una fogliaolina ne va solo una oppure ne puoi mettere anche una di spalle spalle e l'altra ce ne sono due se riesco a dividerli eccoli due no ma saranno meno poco più di 30 e la rimetto qui dentro così almeno non prende polvere senza che stare lì a spolverare e poi spolveri e spolveri e se ne va l'immagine e si consuma il materiale e si è giocato più o meno come era prima ma che addirizzo un altro po' dopo ci penso qua stanno tre carte promozionali le metto da parte vado queste sono le bustine paradosso temporale ossidiana evoluzione paltea paradosso temporale ossidiana evoluzione paltea non so vado in ordine di qua vado di qua vado di qua vado da qui apro per prima questa qui evoluzione paltea vado eccolo scarlatto e violetto come dice uno apro la prima dalle due o la prima dalle sei ecco il codice per chi riesce a prenderla prima il trick è una energia fucsian o violaceo srodle falinx jigglypuff tad bob bob amuleto del coraggio una gramella con la spalvarina sotto gotorita non accettati gardaland onk crof jomprof jomprof bellina fase 2 che si evolve da skip long strano che ci sono altre due tre carte dietro dietro c'è prima ape fase 1 che si evolve da monkey dietro non tanto no è una non tanto rockix carta mancante però peccato che mi è capitata questa fase 1 che si evolve da nimble carina come carta da aggiungere spero che le carte buone non sono solo le 3 carte promozionali spero di trovare qualcosa di buono in questa e le altre 4 bustine ecco la seconda ultima di evoluzione apavea ecco il secondo qualcosa ultimo a chi interessa 1 che energia ci sarà energia ci sarà energie acqua tinkatink che sta piangendo e quasi finita il gelato Srodle bella prima volta che la vedo Limet non tanto Bromblin neanche lui Roxio il soldo che si fa vedere spesso uh il fase 1 di Mabossi Tiff Mabossi Tiff bella mancante nei due di mezzo Tracana e Mammoth fase 1 che si evolve da Mabossi Tiff Berlina carta mancante Pupiter Tempronufo Rokroof dietro ce n'è un'altra ancora Slaking Berlina come carta fate vedere meglio eccola fase 1 che si evolve da Vokotort Vokotot Vokorot il gorilla bella e dietro no no non tanto Tinkaton fase 2 che si evolve da Tinkatuff carina spero negli altri ehi dove andare aspetta vado vado con ossidiano infuogata questa cosa troverò vado con il codice questa è la prima bustina di ossidiano infuogata e la terza e la terza sempre una energia verde erba rogruf wiklet socle socle b sharp fase 1 che si evolve da Pagniart sai che sta facendo il muratore c'era tutte le costruzioni dietro bella armarouche fase 1 che si evolve da cercate carina ortiz bella prima volta che la vedo volcarone fase 1 si evolve da l'arvest l'ho già vista lillipop dietro c'è lunatone anche lei si è fatta vedere niente dietro scisor anche lui si è fatto vedere fase 1 si evolve da scider bellina vado con la terza bustina o seconda no con la quarta bustina è seconda di ossidiano infuogata quarta bustina quarta facciamo quarta ecco il codice o quarkode sempre 1 energie verde o erba lima rocluf di nuovo ti fa vedere wiklet di nuovo di nuovo sukle kangaskan wiskash fase 1 che si evolve da barbuach barbuach froatzel fase 1 che si evolve da buizel sembra una piccola lepre jongos mi sa mi è uscito un'altra volta non so se in questo formato oh bella questa il porcellino il porcellino grumping grumpig parente a peppa pig fase 1 che si evolve in spoing bella carta mancante dietro sembra non sembra più o meno e questa non non dico che sarà la decima ma quasi alisma quanta volta ti devo trovare ancora alisma la doppione vado con la quinta bustina e prima bustina di paradosso temporale spero in questa non è la prossima o in tutte e due di trovare almeno la carta bella soddisfacente eccola non so se una c'è una carta energia energia elettrica purloin purloin mienfu ferrosetta gibble questa è una carta mancante bombola snorlax proprio non sembra una bombola sembra snorlax cucito alla pancia che non hanno fatto operazione per dimagrire tinkaton fase 2 carta che mancava mi manca adesso non mi manca più perché è uscita si evolve da tinkatuff bella anche questa manca durante e dopante e dopo e anticipante dietro c'è trubis rimondizia dietro c'è nato bellina mi sa che mi manca e dietro è arrivata la carta buona è arrivata la carta buona un po' di rosso aspetta come si chiama scheleo dirge scheleo dirge dovrebbe essere no arma roche arma roche anche se non è tanto bellina pure bellina bella tutta strallucicante e carina più che altro arma roche ex fase 1 che si evolve da carcadetta carina come carta bella 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 effetto dragon ball con la fallonda energetica adesso vado con l'ultima e seconda paradosso temporale ultima ultima vado a scoprire subito chissà che ultima carta mi aspetterà ecco qui il codice ecco le cose potrebbero essere l'ultima chissà voglio fare un po' troppo liscia non so se l'ho messo l'ultima davanti si erba eccola qui framigo flamigo porigon oricorio carta mancante mi capitava spesso quella celeste con le alette bianche the old school non voglio gliscor fase 1 che si volve da gligar uva abslow absol carta mancante bella base modello base full optional chissà come sarà oh bella anche questa simisage fase 1 che si volve da passage bella carta mancante ehi opaldo aiuto allenatore ancora era qui la carta fuo e poco il solito sotto la pioggia e chissà cosa ci sarà questa come ultima non ho fatto nessun trabocchetto vediamo fase 1 chi è è una carta che mi manca però penso in qualcosa di più colisopot colisopot sempre il coso della lavatrice il pot dalla pubblicità che mi metti nella lavatrice e pulisce chissà se pulisce fase 1 che si volve da winpot questa è fase 1 che vale mi sa risciacquo poi c'è fase 2 la parte finale il base è l'inizio comunque sto contento che non escono sono uscite sono uscite molti doppioni sto contento che sono uscite carte da aggiungere alla collezione quello è l'importante che almeno esce qualcosa di buono anzi così è così unica carta anche se non conviene metterla e la metto lo stesso nella slide sleeve io la chiamo sleeve perché si scrive sleeve dice perché sono in italia scrivo sleeve le tre si le tre carte promozionali il gettone l'album le altre cose non entrano ma le faccio passare gli adesivi peccato di non aver trovato charizard qualche altro charizard e la scotola di ferro o metallo o valigetta i bambini la userebbero per la scuola ma è difficile che la useranno ma possono usarla vi ringrazio di aver visto anche oggi o oggi per voi o domani per voi dopo domani dipende come mi vedrete vi ringrazio di aver visto il video ci video vediamo eh ci video vediamo la prossima volta ciao ciao